buongiorno a tutti il titolo di queste mie lezioni e nuove tecnologie per la comunicazione in azienda e nello specifico parleremo del corporate blog la prima lezione che andiamo ad introdurre una lezione diciamo introduttiva sull'azienda open cioè sull'azienda aperta l'azienda aperta è una tipologia di azienda che ha preso molto piede ultimamente è una metodologia di innovazione aziendale che fa della comunicazione il proprio cavallo di battaglia di sicuro un'azienda sia essa open o meno è un'azienda che ha una responsabilità sociale e infatti il concetto di corporate social responsibility è un concetto centrale sia nella relazione tra aziende sia nella relazione tra azienda e cliente sia nella molto difficile relazioni tra aziende pubblica amministrazione